sto dipingendo questo lavoro con un pennello secco perché mi interessa questo segno mi interessa lasciare un segno veramente frammentato e poi unire due tecniche che sono il colore acrilico e la penna bic in questo caso uso una bic fine quando il colore è asciutto io proprio riesco ad andare dentro di esso a penetrarlo e a costruire queste forme che mi piacciono moltissimo vi invito a provare anche voi sentirete come la penna penetra proprio il colore perché l'acrilico non ha ovviamente la stessa durezza del colore olio e quindi si fa modellare piacevolmente penna biro e colore acrilico un matrimonio sorprendente una buona settimana a tutte e a tutti